Mi benedica padre perché ho peccato. Saranno più o meno quanti? Vent'anni dall'ultima volta che mi sono confessato. Mikey! Ah sì, posso avere due cheeseburger, contorno di patatine e dell'acqua santa. Certo, l'unico idiota che verrebbe qui a ordinare fast food. Allora, di cosa hai paura? Di tutto. È come se tutto quello che ho fatto nella vita, di buono, cattivo, tutto, non sia che un brutto sogno. Non conta ciò che faccio. Mi vedranno sempre per ciò che ero, non per ciò che sono. Sì, credo di capire. Allora chi sei tu? Si dice che stasera combatterai al Garden, incredibile! Sei l'unico cazzone che con un pacchetto al giorno regge ancora 12 round. Oggi è l'ultimo giorno. Mi dispiace non averti dato di più. Ricorda almeno le cose belle. Comunque vada stasera, sappi che siamo fieri di te. Qualunque cosa succeda, devo sapere che pagherai. ti voglio bene, ragazze, lo sai. Ma devi lasciare andare le cose. Non ho niente da perdere. Non ho moglie, non ho figli, non ho niente. Mi dispiace di non essere stato il figlio che volevi. Le persone che davvero contano nella tua vita sono molto più inclini al perdono di quello che pensi. Ecco, questo... questo... è tutto. Grazie per la visione!